Stiamo presidendo una zona calda, un'altra zona calda della città. Qui siamo in una zona... Stefano Belei, il consigliere comunale e altri bianchini presidono una zona calda della città. La città è un'altra zona calda, un'altra zona calda di raffreddivare. E' un'altra zona calda di raffreddivare, del diare il pious. Il piazza di diare il piazzardo di raffreddivare wouldi per la città. Con la città di riprende la città. A epoca mani vienori trattati per la città. La città della città è iniziata una zona calda di raffreddivare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E quant'altro. Però oggi è così. Il 25% sono extracomunitari del centro storico. Secondo me in questa zona qua siamo quasi al 90%. Grazie a tutti. Qua i soliti delinquenti lasciano i veti per terra? Quindi un cittadino modenese ci stiamo affrestando ai viali della strada abbiamo trovato che non dicono che li abbiamo messi a posta per fare il video. Quindi uno scende a Modena, bella città e tutto quanto, ecco la prima cosa che si trova è un materasso. Bello, complimenti, siamo a un passo dalla stazione. Quindi i cittadini, i visitatori che vedevano a Modena, la prima cosa che potrebbero sarebbe questo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.